Sei così giovane, così pieno di vita. A Mary Ann fa piacere chiacchierare con lui. Stanno parlando della fiera e di Springfield. Lei ha tutto il denaro che desidera e potrebbe andare dove le pare. Ma le piace Springfield. Qui sta bene. Lei è molto contenta. È come se quella sera lei uscisse per la prima volta dopo tantissimo tempo. Oh no! Cosa ci arriva? Ora c'è anche lei. Sua zia Carrie. Quando arriva Carrie le crolla addosso il mondo intero. La sua energia è così intensa. Perversa. Carrie è piena di rabbia. La vuole dominare. Mary Ann prova un senso di claustrofobia. Io riesco a sentire quello che prova. È un po' come se lo provassi anch'io. Ora rilassati, Riva. E respira profondamente. Quello che stai provando è una proiezione del passato. Non è la realtà attuale. Nella realtà tu sei qui insieme a me. Io mi sento così. Mary Ann si sente come in trappola. È come se fosse chiusa in gabbia. Ed è arrabbiata. Questa non è la realtà, Riva. Non dimenticare che voi siete in due. Tu adesso sei qui con me. Mary Ann no. La sta trattando male. Carrie vuole che vada in Svizzera con lei. Ma Mary Ann vuole essere lasciata in pace. Vuole che sua zia la lasci libera. Non portarla via. Lasciala qui. Lei vuole restare. Ma zia Carrie non sente ragioni. Insiste. Mary Ann! Mary Ann! Dove vai? Non riesco più a vederti. Io non mi sento molto bene. qui c'è qualcosa che non va. Mary Ann sente la testa che le gira. Ha caldo. Io... Io mi sento la testa che gira. No, Riva. E' a Mary Ann che gira la testa. Alan aveva drogato la birra. Tu sei qui al sicuro con me. Ci troviamo a casa tua. Ora siamo su un'auto. Va troppo veloce. Ha iniziato a piovere. ferma la macchina. Non si vede niente. Devi rallentare. D'accordo, dottore. Direi che così può bastare. La riporti qui. Bene, Riva. Adesso conterò da tre a uno. E molto lentamente tu lascerai il buio di questa visione e tornerai alla luce dell'aria. Tre. Stai tornando indietro. Ti stai separando dall'esperienza vissuta da Mary Ann. Due. Qualcuno può aprire il finestrino. Aprite il finestrino. Io vi prego, fa così caldo. Riva, Riva, devi tornare qui adesso. Abbiamo finito. Torna alla realtà. Quando batterò le mani, sarai di nuovo nel tuo corpo. Io sono... Uno. Riva. La mia testa è così leggera adesso. Mi hai fatto prendere una spaventa. Stai tranquilla. Adesso è tutto a posto. È finita. No, rallenta, Alan. Riva. Non devi andare così forte. Rallenta. Non sono Alan. Rallenta, Alan. Sono Josh. Guarda, mi sono io, il tuo Josh. Alan, ti prego, voglio scendere. Non voglio stare qui. Sta tranquilla. Non sta succedendo niente di male. Voglio scendere da questa macchina. Non devi... Non ferma. Riva. Non devi aver paura. Stiamo qui a casa. Riva. Torna qui. Quest'acqua è gelata. Tisana. È gelata. Devo tornare qui con noi. Adesso cerca di aggrapparti alla realtà. Tu sei qui. Sta tranquilla. Voglio uscire dall'acqua. Non è successo niente. Riva. Riva. Tranquilla, Riva. Non esiste. Troppo fredda. Riva. Non riesco a respirare. Ti prendo. Ti subito. Riva. Non è arrivato freddo. Oh, mio Dio. Quindi tu non sei morta nell'incidente? Perché non ti hanno trovata allora? Quando sei riemersa dall'acqua, tu eri ancora viva. Gli angeli hanno vegliato su di te quella notte. I ragazzi mi hanno abbandonata qui. Mi hanno abbandonata. Io non ero morta e loro mi hanno abbandonata. Questa storia deve finire qui. Adesso. È ora di lasciare Mariana. Torna indietro. Torna qui. Mi hanno abbandonata qui. Riva. Mi hanno abbandonata qui. Mi hanno abbandonata qui. Perché non siete tornati indietro a cercare? Perché non siete tornati indietro a cercarmi? Io non ti ho abbandonata, Mariana. Non lo farei mai. Adesso ci sono qui io. Sono qui con te. E nessuno. Nessuno si azzarderà più a parte del male. Te lo prometto, Mariana. Te lo prometto. Lei è qui. È con me. Mary Ann. Mary Ann. Lei è qui. Sia Carrie. È stata lei a trovarmi dopo l'incidente. Io ero distesa sulla riva del fiume. Che cosa sta facendo? Che cosa fa, Carrie? Lei mi tiene stretta. Stretta. Così stretta. Cosa c'è? Riva. Riva. Non respiro più. Riva. Riva. Non permetterò mai che la tua vita sia rovinata da quella gentile. Da questi uomini che non ti amano. Da questa gente che non potrà mai volerti il bene che ti voglio io. Mai e poi mai, Mary Ann. Mai. Mai. Riva. Riva. Riva, torna con me. Riva. Non lo so, è la prima volta che mi capisco. Riva. Non riesce a respirare. Stendiamola sul pavimento. Riva. Riva. Riva che cosa c'è? Riesci a sentirmi? Riva, mi senti? Riva. Tesoro. Riva. Che cosa sta succedendo? Non lo so, Josh. Non era mai capitato. Riva. Riva. Non respira più. Riva. Rispondi. Riva.